Questa scuola racconta una passione. Una passione che si conferma ogni giorno. Una storia di tradizioni, perché è dalla conoscenza che nascono i grandi talenti. Perché è nelle cucine, come nelle botteghe di una volta, che si trasmette il sapere. È una storia che sfuma dai sapori dolci a quelli salati, che parte dalle nostre radici e le serve in un piatto. Una storia che prende le tradizioni e senza alterarle le trasforma in professionalità e competenza. Studiare gli ingredienti, per poter aggiungere alla passione un pizzico di esperienza. Per amalgamare il tutto con decisione, condire l'immaginazione con audacia e saggezza. Insegnare che ogni elemento ha il suo valore. Saperlo selezionare e lavorare con cura per ottenere il meglio. Usare creatività e gusto, con l'obiettivo di lasciare il segno al primo boccone. Una storia di grandi maestri, che una volta erano grandi allievi. Questa storia è la nostra storia. Coquis, Ateneo italiano della cucina.